Ciao! Allora, oggi sfogliamo l'album numero 3 del libro Shea, un album che è pieno di novità e offerte, tantissime offerte per la cura soprattutto del viso, ma le vedrete comunque tutte quante quando sfoglieremo il video e quindi direi di iniziare subito. Allora, eccoci, per prima cosa vediamo la promozione per il trattamento viso, eccola qui, perché abbiamo con l'acquisto di 15€ di tutto il catalogo, ogni 15€ si ha in omaggio il trattamento viso a scelta, quello più adatto alla vostra carnagione, con il foglio sottolineato. Quindi, 15€, scegliete il trattamento, questi sono quelli notte, e questi sono quelli giorno. Poi, iniziamo a vedere le promozioni, perché la prima promozione comprende il set compattezza, a 26,95, con il trattamento rimpolpante giorno, il filler mirato occhi e labbra, più questa pochette. Se no, abbiamo il set luminosità, a 24,95, che compare nel trattamento levigante giorno, e il roll in occhi illuminante, più la pochette, ovviamente. Andiamo avanti, eccola, il set ovale definito, a 29,95, il trattamento modellante giorno, più il contorno occhi effetto lifting, più la pochette. Oppure il set pelle luminosa, a 34,95, che comprende il trattamento riattivatore di giovinezza, giorno, il roll in occhi riattivatore di giovinezza, e la pochette. 29,95, il set nutrizione della Rish Creme, che comprende l'antirughe benefica giorno, l'antirughe benefica occhi, più la pochette. Eccola qua, il set antiata globale, che è dell'antiage global, comprende la crema fondamentale giorno, la crema fondamentale occhi, e la pochette. Vi mostro ora un'offerta, perché, eccola qua, abbiamo lo stick correttore pelle perfetta a 3€, con l'acquisto del fondotinta a 0 difetti. Quindi, acquistiamo il fondotinta a 14,95, tra tutti i colori, eccoli qui, per trovare quello più adatto alla propria camagione, e il correttore a solo 3€, e si sceglie con il colcio sottolineato, per il colore, mentre il prezzo pieno sarebbe 7,95, quindi questa è una buona offerta. Iniziamo ora con il set per la festa dei papà. Questo ad esempio comprende il set freschezza, con il gel da barba, il balsamo e il dopo barba, a 9,95. Oppure il set lenitivo, con la schiuma da barba, il balsamo e il dopo barba, a 9,95. Oppure il set capelli, che comprende lo shampoo stimolante e il trattamento stimolante di un mese, a 22,95. Poi abbiamo il set Energy Home, il trattamento antità 4 in 1, più il gel gommage viso, più la pochette, a 19,95. Ci sono anche i profumi in offerta, per esempio per la festa dei papà, quindi tutti i profumi. Eccoli anche questi, ovviamente, sono tutti in promozione. Vediamo ora una novità, eccola qua, l'Eplasia Nature, perché c'è, eccole qui, due nuove profumazioni. La prima è il bagno doccia alle fiori di loto e salvia, che è nella confezione grande, a 400 ml, a 3,95, oppure nella piccola, a 2,70, quella a 200 ml. Abbiamo anche il nuovo profumo, eccola qua, fiori di chiaree e young lang. Penso si dica così. E la stessa cosa per le quantità. Poi abbiamo invece in offerta tutti gli altri bagno doccia, perché ne abbiamo due, eccoli qui, a 6,95. E si possono scegliere con il codice, il primo col codice nero, il secondo col codice rosso, e sono scelte le profumazioni, 2,6,95. Altra promozione, i balsamo labbra. Abbiamo due balsamo labbra sulle 3 euro, sempre a stesso discorso, il primo col codice nero, e il secondo col codice rosso, tranquillamente a scelta tra quelli che volete. Vediamo ora le novità della linea per il corpo anticellulite, e si chiama Melsure Pele Perfetta, quindi riduzione pelle perfetta. E abbiamo, eccola qui, intanto è il, vediamo se riesco a farvi vedere un po' meglio, il trattamento anticellulite, la confezione da 200 ml, a 14,95. E questa è la crema anticellulite. Abbiamo poi il trattamento, eccola qua, per la silhouette affinata, e questo è la serosnellente, che è un 150 ml e viene 17,95. Quello è il trattamento efficace, testato in 28 giorni, dice. E con questo abbiamo sfogliato tutto l'album. Allora, avete visto che ci sono un sacco di promozioni, offerte e tante, tante novità. Vi ricordo che questo è l'album numero 3, che è valido fino al 15 marzo 2017, e qui sotto, nell'info box, c'è sempre il link per contattarmi, per le informazioni e per gli ordini. E poi c'è sempre anche il link per scaricare il formato PDF e il catalogo, così lo potete tranquillamente sfogliare con calma sul vostro computer, tablet, smartphone o dove volete. E perché sapete che io nei video vi faccio vedere solo le promozioni o le novità. Non sto a guardare tutto l'album, se no è un video che dura una settimana. E come sempre vi auguro buoni acquisti naturalmente perfumati, con il Magico Atturale Monzo di Vrochet.